Cosa è la politica? E' molto distante dalla politica dei governi liberisti e quindi anche del governo Renzi. Altra cosa sono i tavoli istituzionali dove si parla dei finanziamenti e degli investimenti che non hanno colore politico, si tratta di intervenire sui bisogni delle città. Finora Napoli è stata discriminata, abbiamo fortemente voluto questo tavolo, il tavolo sta producendo un dialogo importante e secondo me anche dei risultati, ma è presto per dire che è imminente la firma del patto su Napoli.